Rappi, sale, sale, è recente, hai fatto il pasticcio, l'hai comprati a voi, no? No, Valerio, ecco l'operazione di schiacciamento, di presatura, 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 la foglia diversa che fa da guarnizione, che fa da guarnizione, poi sopra ci va il tappo di legno, con un peso, e si lascia riposare, ora il tappo di legno, con un peso sopra, e voilà, le gesto sono fatto, il pasticcio è pronto, ciao Mandi. Io, allora, domani, calma, ti apri la misura giusta, dopo la faccio un po' flessibile, di modo che a fase, che schicce, che a fase balestra, che a fase muola, muola, dici, non re, Ora la botte verrà messa a dimora, fino alla vigilia di Natale.